Diciamo che di fronte a questo evento riteniamo che ci debba essere una risposta forte a livello generale perché si mette veramente a rischio e a repentaglio la democrazia ma soprattutto la possibilità in futuro di continuare a difendere i diritti e l'occupazione con la strumentazione che abbiamo conosciuto in questi anni. Noi non siamo un sindacato che crea casino a prescindere, noi siamo un sindacato che fa le cose e le prova a trovare accorti ma se dall'altra parte c'è qualcuno che non si ascolta è chiaro ed evidente che dobbiamo essere liberi di poter fare iniziative per far cambiare idea a queste imprese.